Ratifica numero 3285 nella quale interviene l'elatore Porta, chiusa la discussione nel seguito del dibattito e rinviato da altra seduta. Si passa la discussione sulle linee generali del disegno di legge di ratifica 3301 nella quale interviene l'elatore Censore, chiusa la discussione nel seguito del dibattito e rinviato da altra seduta. Si passa la discussione sulle linee generali del disegno di legge di ratifica 3511 nella quale interviene l'elatore Censore, chiusa la discussione nel seguito del dibattito e rinviato da altra seduta. Si passa la discussione su linee generale del disegno di legge di ratifica 3530 nella quale interviene il relatore Porta e chiusa la discussione nel seguito del dibattito e rinviato ad altra seduta. La seduta termina alle 18.05 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 3 maggio 2016 con inizio alle 10.30. Grazie, se non vi sono obiezioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati a Brignani, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfred Alli, Amendola, Amici, Basso, Bellanova, Benamati, Bernardo, Dorina, Bianchi, Biondelli, Bobo, Abbocci, Bonifazzi, Michele Bordo, Bortoletti dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Causi, Causin, Antonio Cesaro, Cicchitto, Cirelli, Costa, Crippa, D'Alia, D'Ambroso, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Orco, Dell'Ai, Di Gioia, Luigi D'Aimaio, Gianni Farini, Federica, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Giampaolo Galli, Garavini, Garofani, Giacomelli, Giacomelli, Giammanco, Giancarlo Giorgetti, Gozzi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Migliore, Orlando, Pesce, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Relaccio e Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Scuvera, Senaldi, Tabacci, Velo, Vignali e Zanetti sono in missione a decorrere dell'astituto di Erna. I deputati in missione sono complessivamente 95, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nella legata a resoconto della seduta di Erna. L'ordine del giorno rega la discussione della proposta di reggio già approvata dal Senato, numero 3634, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Avverto che lo schema recante alla ripartizione dei tempi è pubblicato in caccia a resoconto stenografico della seduta del 4 maggio 2016. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I Presidenti dei gruppi parlamentari di Sinistra Italiana, Sinistra Ecologia e Libertà, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico ne hanno chiesto l'ampiamente. La Commissione Giustizia si intende autorizzata a riferire oralmente, a facoltà di intervenire, la relatrice onorevole Campana. Prego. Presidente, illustrerò la relazione e chiedo di depositare la relazione per iscritto. Presidente, colleghi, è con profonda emozione ed altrettanto orgoglio che oggi prendo la parola in quest'Aula. Il disegno di legge che stiamo per discutere ed approvare restituisce finalmente ai nostri concittadini omosessuali un bene, l'odo sottratto da...